la leader di fratelli d'italia il punto è capire che cosa vuole draghi credo che bisogna partire da lì per parlare del tema della presidenza della repubblica magari votiamo anche ruby in qualità di nipote di mubarak ma è ben strano che un anziano signore così malato per non poter presiedere ai processi per corruzione giudiziaria trovi la forza di fare il presidente della repubblica ma si figuri se mi metterei io contro la candidatura di berlusconi al quirinale risponde così giorgia meloni leader di fratelli d'italia partecipando non è l'arena sulla sette quando le viene chiesto se voterebbe silvio berlusconi alla presidenza della repubblica ho sempre avuto un rapporto molto schietto con berlusconi e di enorme rispetto reciproco aggiunge poi ho detto che secondo me berlusconi non mi ha mai capito completamente ma ci sta siamo due persone sicuramente molto diverse ho uti stream quindi voterebbe berlusconi al colle la leader fdi ribadisce io assolutamente non ho problemi su questo il punto è capire che cosa vuole draghi credo che bisogna partire da lì per parlare del tema della presidenza della repubblica poi bisogna capire il centro destra intanto se riesce ad andare compatto e poi quali sono i numeri dipende da lei se non va compatto no osserva meloni queste cose si fanno insieme dipende da tutti parlo in generale se gli elementi fossero altri l'importante comunque è che ci si muova insieme 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 Grazie per la visione!